Ben ritrovati cari amici telespettatori sarà un investimento da 60 milioni il progetto del nuovo polo logistico Panorama Alessandria che si insedierà nei prossimi mesi ai margini del quartiere Europa struttura destinata a servire parte dei punti vendita PAM dislocati nel nord ovest del paese con la creazione di almeno 150 nuovi posti di lavoro. Il progetto è stato presentato in sala giunta questa mattina all'area da 22 anni di proprietà del gruppo PAM SPA. Lo scorso anno la società ha stipulato con il Comune un atto di programmazione negoziata con l'approvazione allo scorso mese di aprile da parte del Consiglio Comunale di una variante parziale al piano regolatore per il cambio della destinazione d'uso dell'area. I lavori di costruzione dovrebbero essere completati in 18 mesi. Si tratterà del sesto polo logistico allestito da PAM in Italia, il più moderno e sostenibile con l'edificazione di circa 60 mila metri quadri inclusi gli uffici direzionali, un impianto fotovoltaico da 1,2 megawatt e servizi per gli autisti in attesa, compreso un locale di ristoro, 15 mila metri quadri di aree refrigerate per la gestione del fresco. Nel corso della presentazione è stato poi ribadito che il sito è strategico anche perché è perfettamente servito dalla tangenziale. Questa caratteristica, come hanno detto dal Comune, facilitando un processo di logistica industriale ottimizzata, consentirà ai mezzi pesanti, che saranno quasi 120 al giorno, di raggiungere il polo logistico nel minor tempo possibile e senza mai attraversare aree edificate né entrare in città. Il processo di entrata e uscita dal polo avverrà infatti esclusivamente da e per la tangenziale est, per mezzo della rotonda che precede la caserma dei vigili del fuoco. Non saranno pertanto interessate né via San Giovanni Bosco né altre strade urbane e non vi sarà alcun impatto sul tessuto urbano esistente. E questa sera, nel corso del Consiglio Comunale, il Sindaco di Tortona chiederà che venga riconosciuto lo stato di calamità dopo che il maltempo che si è abbattuto nell'Alessandrino tra sabato e domenica ha distrutto in alcune zone il 100% dei raccolti. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma certo è che l'Alessandrino esce martoriato da questa ennesima emergenza e da mercoledì invece si tornerà, secondo le previsioni, a fare nuovamente i conti con il grande caldo. Cristiana Zanetto. L'ultimo danno del maltempo di sabato sera nel Tortonese sono i semafori. Circa 16 che questa mattina in città non sono più funzionanti e lo resteranno per diverso tempo. Ma la conta dei danni è veramente lunga tanto che questa sera durante il Consiglio Comunale il Sindaco di Tortona ha deciso di chiedere lo stato di calamità. Un processo lungo ma che senza alcun dubbio dovrà essere preso in esame. Due le scuole che rimarranno chiuse almeno per due giorni per consentire il ripristino del funzionamento sono allagate ed in alcuni casi con le controsoffittature che hanno ceduto. Danni anche alla biblioteca, Palazzo Quidobono, sede di molte mostre, parecchi i vetri rotti anche nel Palazzo Comunale. Tantissime le auto della Polizia Municipale e dei Carabinieri danneggiate dalla grandinata. Ma a fare la conta dei danni peggiori sono gli agricoltori della zona dove la grandina ha distrutto interi campi coltivati a mais, orzo, grano e ortaggi insieme a frutteti e vigneti distrutti. Tutti coloro che hanno subito danni devono presentare le dichiarazioni alle loro sedi competenti. Così si avrà chiaro il quadro per poter circoscrivere il perimetro dell'evento. La speranza è che la Regione Piemonte chieda prontamente lo stato di emergenza per i territori colpiti. Nella notte lungo le strade la grandina era ammassata come se fosse stata neve. E oltre ai disagi e ai disastri provocati dalla grandinata, oggi per Tortona è stata un'altra giornata difficile a causa della rottura improvvisa di una tubazione che si è verificata in largo carabinieri d'Italia che ha prosciugato i rubinetti di mezza città fino alla località punta di Garbagna, la strada statale per Voghera, il comune di Ponte Curone e molte località limitrofe. L'emergenza è terminata solo nel tardo pomeriggio. Le termi di acqui riapriranno già questa stagione. L'accordo è stato raggiunto dopo tre giorni di trattative incessanti che hanno visto protagonisti la proprietà e quindi termi di acqui S.p.a. i sindacati e la regione Confindustria riprendono le attività medico-curative, quelle turistiche e si salvano una buona parte dei posti di lavoro. De De Vinci. Se fino alla settimana scorsa sulla nota vicenda della chiusura delle termi di acqui non c'era nessun accordo, oggi un primo passo importante verso l'apertura si può dire concluso. I primi 12 lavoratori dipendenti dello stabilimento delle terme di acqui faranno ripartire già per questa stagione l'attività delle terme. Stamattina dopo due ore di assemblea l'accordo è stato ratificato da tutti i dipendenti. Naturalmente la soddisfazione riguarda soprattutto una parte del totale dei lavoratori che facevano funzionare sia le terme che il Grand Hotel, che invece al momento è confermato non riaprirà. Altri 13 dipendenti del Grand Hotel hanno accettato anche se con una logica delusione, l'accordo raggiunto dai sindacati che li accompagnerà con il sostegno della Naspi e di incentivi per chi accetterà a lasciare l'azienda. Questo nuovo capitolo della storia delle terme è stato scritto nei tre giorni di trattative incessanti alla fine della scorsa settimana. È stato raggiunto l'accordo con la società terme di acqui SPA che prevede la ripartenza delle attività termali già a partire da questa stagione. A comunicarlo sono non solo le organizzazioni sindacali Filcams CGL, FISA, SCAT CISL e Wiltux Will, ma anche l'assessore competente per la regione Piemonte e i funzionari regionali, ancora Confindustria e la società delle terme SPA. Si è così scongiurata la precarizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori per le prossime due stagioni e allo stesso tempo si prevede quindi un sostegno economico per i dipendenti del Gran Hotel che purtroppo, come più volte dichiarato, non riaprirà. Durante i prossimi due anni sarà aperto un tavolo tecnico permanente per sollecitare e monitorare le iniziative regionali messe in campo direttamente dall'assessore al lavoro e dallo stesso governatore piemontese. Le organizzazioni sindacali dichiarano che il riavvio delle attività consente di mettere una prima pietra che rappresenta una garanzia per la continuità e il rilancio di un settore come quello delle terme che è importante e strategico non solo per la città di Acqui, ma anche per l'intera provincia e per la regione Piemonte. L'udienza preliminare per il fallimento della squadra del basket torinese Auxilium inizierà il 6 settembre tra i dieci imputati rinviati a giudizio ci sono l'imprenditore Mario Burlò e l'ex notaio Roberto Goveani, già presidente della squadra di calcio del Torino, contestate diverse violazioni dalla normativa tributaria e societaria. L'Auxilium era una società importante nel mondo del basket, tanto da vincere una Coppa Italia nel 2018 ed è stata finalista in Europa nella Coppa Corac e ha giocato due semifinali per lo scudetto italiano. Un tassista torinese di 47 anni è stato arrestato dalla polizia per detenzione di 20 candelotti artigianali contenenti polvere esplosiva sequestrati nella sua abitazione. L'operazione fa parte di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino. Il tassista è anche indagato per il reato di utilizzo di artifici esplodenti in occasione di manifestazioni pubbliche poiché lo scorso 5 aprile durante le contestazioni in occasione della visita del presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi potrebbe essersi reso responsabile dell'esplosione di una bomba carta. Le indagini sono in corso. Ed è stato confermato durante una riunione che si è svolta questa mattina a Genova il piano di smontaggio dei cantieri autostradali fino al 6 giugno per consentire spostamenti e l'arrivo dei turisti in Liguria in occasione del ponte del 2 giugno su tutte le tratte. Alla riunione alla quale hanno partecipato l'assessore regionale all'infrastruttura, i rappresentanti di Anci e tutti i concessionari è stato analizzato l'aggiornamento del piano cantieri oltre alla data del 6 di giugno. In particolare si è anche parlato della festa del patrono di Genova e di Torino il 24 che vedrà uno smontaggio anticipato dei cantieri a giovedì 23 alle ore 14 in modo da consentire il libero accesso alla Liguria nella giornata di festa al netto dei cosiddetti cantieri inamovibili. Poi i cantieri riprenderanno dal lunedì 27 alle ore 12. Nel corso della riunione del tavolo è stata infine richiesta una particolare attenzione alla programmazione dei cantieri della A7 nella tratta Roncoscrivia-Busalla per la concomitante chiusura della strada statale 35 dei Giovi per la messa in sicurezza del vestante sovrastante la carreggiata. Una decisione assunta anche sulla base di quanto è emerso nel corso del tavolo con Anas e Anci e il comune di Ronco per la specifica problematica di riapertura in sicurezza della strada statale 35. E sarà intanto un ponte del 2G unio da tutto esaurito in Liguria grazie alle conferme da parte di francesi e svizzeri oltre che al ritorno degli americani. E per luglio le prenotazioni hanno già superato quelle dello stesso mese del 2019, ultimo anno che ha preceduto la pandemia arrivando a toccare il 90% dei posti disponibili. Soddisfatto il presidente della regione che ha rimarcato come la Liguria sia pronta a confermarsi regina del turismo forte delle 32 bandiere blu che confermano la prima regione d'Italia per località balneari che rispettano i criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. E intanto a proposito proprio di sostenibilità disperde meno d'ori il nuovo depuratore di amagreti idriche in zona orti ad Alessandria. Grazie alle sue procedure infatti riesce a ridurre le emissioni di CO2 molto dannose per il nostro organismo e ad aumentare la sicurezza idraulica della città con una maggiore capacità di pompaggio e il controllo da remoto dei sollevamenti fognari. Beatrice Augustari. È un impianto con strategie più ecologiche per l'impatto ambientale e la salute pubblica che permettono il massimo abbattimento degli inquinanti per ridurre al minimo l'effetto sul fiume Tanaro. Il depuratore degli orti di Alessandria costruito negli anni 70 non è più quello di una volta, sempre criticato a causa degli odori insopportabili e perviede lo smaltimento delle acque reflue. Ad oggi infatti grazie ai lavori di ammodernamento di ammagareti idriche. L'impianto è più attento alla sostenibilità con tecnologie innovative che nel corso degli ultimi due anni hanno permesso il contenimento delle emissioni CO2 e il recupero dei rifiuti riutilizzabili. Abbiamo costruito due nuove vasche e poi siamo passati una vasca alla volta a fare il relamping delle vecchie trasformandole in cicli alternati che è una moderna tecnologia che caratterizza tutti gli impianti di nostra costruzione oppure che sono in nostra gestione. Quindi da punto di vista ambientale questo comporta in cicli alternati un miglioramento della gestione del processo, un minore impatto per quanto riguarda le quantità dei fanghi. Con il depuratore c'è anche un'altra importante implementazione che sostituirà l'utilizzo del cloro dannoso per l'ambiente e la stabilizzazione dei fanghi aerata. Siamo partiti, i lavori stanno cominciando per la costruzione di un nuovo sollevamento, un nuovo sollevamento che servirà intanto per rispettare quelle che sono le normative ambientali, ci sarà un pretrattamento di desabbiatura e quindi tutti questi micro fattori verranno eliminati prima di essere gestiti e in più le acque avranno un pompaggio maggiore, ci sarà, anziché, quando sono questi forti temporali, anziché buttarli direttamente nel tanaro verranno utilizzate due vasque di prima pioggia come decantazione e quindi verranno successivamente. Passata la piena del grosso intervento potremo rinserirli nell'impianto gradatamente. E continuiamo a parlare di acqua, però ci trasferiamo a Novi Ligure per i 25 anni di ACOS. Il resoconto. Il maltempo dell'altra sera non ha rovinato la festa dell'ACOS al parco acquedotto Pagella Bottazzi di Novi Ligure, aperto ieri in occasione dei 25 anni di attività di un gruppo in prima linea sul fronte dell'acqua, dell'energia e dell'ambiente e particolarmente sensibile alle tematiche sociali. Divertimento ed allegria sono state le due parole d'ordine che hanno caratterizzato una giornata in mezzo al verde con tante iniziative di svago e di sport a partire dalla tradizionale gara di pesca alla trota organizzata dall'Arca Repetto, seguita da altre gare piccoli atleti promosse dalle società sportive locali. Non sono poi mancati gli appuntamenti collaboratorio di Burattini a cura del maestro Natale Panaro e lo spettacolo per attore Burattini e Pupazzi Fonte Zampilla di Massimo Cauzzi, entrambi in collaborazione con l'associazione Peppino Sarina di Tortona. I visitatori hanno potuto godere degli spazi del parco acquedotto Pagella Bottazzi, immersi in una natura di rara bellezza e passeggiare per stand, allestiti dalle associazioni di volontariato e sportive, visitare una mostra di pittura e ammirare performance di ballo dell'ASD WB Dance Alessandria che hanno colpito il pubblico per professionalità ed eleganza. Festa ACOS non è solo una festa, hanno spiegato i vertici del gruppo, ma anche l'opportunità di ringraziare i sodalizi che sostengono con impegno e abnegazione la comunità novese e soprattutto il territorio. E questa festa appunto non è finita ieri, quest'anno coinvolgerà il territorio e si farà itinerante. Sono infatti previsti appuntamenti anche a Gavi il 7 giugno, a Tortona il 18, ad Arquata Scrivia il 19 e 29 giugno ed infine a Dovada il 15 luglio. La città di Valenza ha fatto centro e convinto tutti con la tre giorni della Valenza Jewelry Week e il bilancio nel servizio di Alessandra Dallacà. Capolavori dell'arte orafa ed eccellenze dell'artigianato e denogastronomia del territorio in mostra a Valenza, dove ha debuttato l'edizione zero, di fatto la prima, di Valenza Jewelry Week. Un evento di respiro internazionale che ha permesso ai visitatori di riempirsi gli occhi di bellezza, ammirando da vicino creazioni uniche. Una edizione che è stata fatta in partnership con la Roma Jewelry Week che ha esteso questo format alla città dell'oro. Ne siamo soddisfatti perché tante sono le persone che hanno girato il nostro centro storico, visitato e guardato questi meravigliosi gioielli a Palazzo Valentino nella sede di San Rocco e a Palazzo Terzano, potendo ammirare le eccellenze del territorio, le auto d'epoca e respirare quello che è il centro storico di Valenza. La tre giorni dedicata alla scoperta della filosofia che sta dietro alla realizzazione di un gioiello e alla meticolosa professione dell'orafo è stata declinata anche attraverso la storia e la tradizione delle botteghe e delle aziende della città dell'oro che hanno aperto le loro porte ai turisti. Coinvolti in questo percorso d'arte a tutto tondo anche gli studenti dell'Istituto d'Arte Cellini. La promozione di questa fetta dell'Alessandrino è passata pure attraverso visite guidate per i monumenti di Valenza e una premiazione, quella del concorso Sant'Eligio, giunta alla tredicesima edizione ed organizzata dalla confraternita di San Bernardino. Numerosi prestigiosi partner che hanno reso possibile la Valenza Joey Week e che ha visto il patrocinio dell'amministrazione comunale, la quale ritiene che l'edizione 2022 rappresenti il primo passo di un percorso destinato a durare nel tempo. Una manifestazione è stato sottolineato a Palazzo Pellizzari che ha saputo coniugare la bellezza dei lavori dei maestri orafi di Valenza con la sua cultura, la sua arte, il suo patrimonio architettonico, i suoi palazzi, tipicità, con tutto quello che ha contribuito a far conoscere l'orgoglio valenzano nel mondo. E siamo alla pagina sportiva. In una miriade di luci e colori hanno preso il via ad Aquiterme, le Aquilimpiadi 2022, una settimana di sport inclusivo e di eventi collaterali che animeranno caratteristici della città termale. Fabrizio Mattana tra poco, grazie per averci seguito, arrivederci.